Andiamo a vedere nel dettaglio i servizi della sede di medicina della Biblioteca. L'accesso e la consultazione in Biblioteca è libero. A Piano Terra si trovano i libri con collocazione da 000 a 615.9. Al primo piano quelli con collocazione da 616 a 999. Le riviste dell'annata in corso sono a Piano Terra, mentre le annate precedenti si trovano nel magazzino, non accessibili al pubblico. Se hai bisogno delle riviste del magazzino, rivolgiti al Banco Prestiti. Alcuni libri hanno inallegato il CD. Se ne hai bisogno, chiedi al Banco Prestiti. I DVD si trovano sempre a Piano Terra, ma in un apposito contenitore al centro della sala, a libera consultazione. La Biblioteca mette a disposizione delle impostazioni informatiche per accedere alle risorse elettroniche. Puoi usare i terminali per consultare l'OPAC o scaricare un articolo, leggere un e-book o consultare una banca dati. Segnaliamo che la Biblioteca è coperta dalla rete Wi-Fi. La Biblioteca promuove l'accesso a distanza del nostro patrimonio. Vediamo le principali operazioni che si possono fare anche da casa. Innanzitutto, si può entrare nel sito web della Biblioteca per accedere alle risorse o semplicemente per trovare informazioni sui servizi e le novità. L'OPAC si può consultare da casa non solo per controllare il nostro posseduto, ma anche per fare operazioni personalizzate. Puoi prenotare un libro già in prestito, in modo che appena rientra dal prestito, venga riservato a te. Se hai già in prestito un libro, puoi rinnovarlo se non è stato prenotato da altri utenti. Dall'OPAC puoi anche richiedere articoli o libri non posseduti dalla nostra Biblioteca. Sto parlando del servizio gratuito di fornitura articoli e prestito interbibliotecario. Per accedere alla tua pagina personale dell'OPAC, basta selezionare il login e autenticarsi con le cadenziali della posta di Ateneo. Last but not least, da casa puoi accedere a tutto il patrimonio elettronico della Biblioteca. Parlo di banche dati, e-journal ed e-book. In Biblioteca puoi fotocopiare i libri e gli articoli nel rispetto della normativa sulla tutela del diritto d'autore, che prevede di poter fotocopiare massimo il 15% dell'opera. Il servizio a pagamento. Puoi fare 10 fotocopie spendendo solo 46 centesimi di euro. I soldi si caricano in una tessera ricaricabile. È possibile anche la stampa del materiale online, oppure di file personali depositati sulla chiavetta USB, al costo di 0,061 euro. In alternativa, si possono stampare gratuitamente, massimo 50 pagine al mese, nelle aule informatiche. Gli studenti possono prendere in prestito 5 libri contemporaneamente, di cui massimo 3 di testo. I libri di testo sono prestabili per 20 giorni. I laureandi possono prendere fino a 8 libri, ma sempre massimo 3 di testo. I libri non prestabili, invece, quelle riservate alla sola consultazione, possono essere presi in prestito nel weekend, prendendoli venerdì dopo le ore 16 e restituendoli entro le ore 10 del lunedì successivo. I DVD possono essere presi in prestito per 8 giorni. Presso la sede di medicina della biblioteca si trovano anche i libri dell'area medica del CIDIS, lente per il diritto allo studio. Solo gli studenti possono prenderli in prestito, massimo 7 libri per una durata di 90 giorni. Il CIDIS ha una sede ufficiale in Bicocca, presso l'edificio U12, dove potete prendere in prestito i libri dei corsi di laurea che non afferiscono alla medicina. Tutte le sedie del CIDIS danno il prestito gratuito agli studenti universitari. Il document delivery o servizio di fornitura di articoli ti serve quando hai bisogno di un articolo non posseduto dalla biblioteca. Puoi richiederne una copia via mail scrivendo a interbib-med-ulimib.it o entrando nell'OPAC e selezionando il form fornitura articoli oppure puoi rivolgerti direttamente ai bibliotecari. Puoi fare 10 richieste alla volta. Quando il documento sarà arrivato, riceverai una mail di avviso che l'articolo è pronto per essere ritirato. Questo servizio è particolarmente usato ed utile per i laureandi. Il prestito interbibliotecario ti serve quando hai bisogno di un libro non posseduto dalla biblioteca. Puoi richiederlo con le stesse modalità del document delivery, quindi puoi scrivere una mail all'indirizzo interbib-med-unimib.it oppure puoi entrare nell'OPAC e selezionare il form dedicato che si chiama prestito interbibliotecario oppure puoi rivolgerti direttamente ai bibliotecari. Puoi fare 10 richieste contemporaneamente. Il numero 10 è comprensivo tra il prestito interbibliotecario e il document delivery. L'ultimo servizio di cui volevo parlarvi è l'Information Literacy o formazione degli utenti. La biblioteca svolge varie attività di orientamento, informazione e formazione degli utenti. Online trovi anche Biblio e Learning, uno spazio della biblioteca dedicato alla formazione online. Grazie a tutti.